Ha aggredito due vigili urbani mentre sabato si svolgeva una gara podistica, il primo trofeo città di Falcone, primo a memoria alla Stefano Salmeri. Per questo motivo Domenico Sergio Milabella, 40 anni, residente nella provincia di Enna, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Falcone. Si contesta minaccia, violenza e resistenza nei confronti di due appartenenti alla Polizia Municipale di Falcone. Milabella era in vacanza e mentre assisteva alla gara podistica voleva oltrepassare le barriere ed il nastro utilizzato per bloccare il traffico veicolare e pedonale lungo il tratto di strada comunale. I vigili urbani di Falcone glielo hanno impedito e qui sono scattate nei confronti dei due vigili urbani minacce verbali e spintoni. A quel punto sono intervenuti i carabinieri che lo hanno accompagnato presso la propria abitazione e gli arresti domiciliari. In una fase successiva si è registrata un'altra aggressione, sempre per motivi legati alla chiusura al transito delle strade. Un uomo a bordo di una moto ha cercato di rompere il nastro che delimitava l'area della corsa podistica è intervenuto il vice sindaco Sebastiano Calabrese che ha cercato di riagganciare il nastro. In questo momento dopo un breve alterco verbale l'uomo avrebbe colpito Calabrese alla testa con il suo casco. Intervenuto un'ambulanza del 118 ha trasportato Calabrese all'ospedale Cutroni Zodda di Barcellona. Qui è stato sottoposto ad un'attacca e di seguito è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Oggi verrà sentito dai carabinieri della compagnia di Barcellona che hanno appreso quanto accaduto solo nella giornata di ieri. In questa sede Calabrese presenterà una denuncia sull'accaduto. I militari hanno proceduto nel contempo ad effettuare un servizio coordinato di controllo del territorio nei luoghi della movida notturna sia a Barcellona come anche sul litorale di Termevigliatore, Falcone e Oliveri. Hanno denunciato sette persone, cinque per porto di armi o altri oggetti pericolosi, uno per inosservanza delle prescrizioni della sorveglianza speciale ed un settimo per disturbo alla quiete pubblica. A tre persone è stata ritirata la patente di guida perché è stato di ebrezza. Dieci persone sono state segnalate al prefetto di Messina per uso personale di sostanze stupefacenti. In tutto sono state controllate 125 persone e 57 veicoli. Uno di questi è stato sottoposto a fermo amministrativo per mancanza della copertura assicurativa.